Ciao, buongiorno, Antonio Rosa, Corriere dello Sport, buongiorno. Salve, due domande al volo, la prima è intanto le tue prime sensazioni legate alla tua riva a Palermo, la seconda a proposito della collocazione tattica, correggimi se sbaglio, nasci calcisticamente come esterno offensivo, come attaccante, poi gradualmente arretri il tuo raggio d'azione e diventi tarsino sinistro. Volevo chiederti appunto se questo spostamento è stato tra virgolette naturale o dovuto alla scelta, all'intuizione di qualche allenatore del passato, grazie. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti. No, le prime sensazioni qui a Palermo sono veramente ottime, il gruppo mi ha accolto benissimo, lo staff, la società mi ha accolto benissimo e sono molto contento di essere qui. Riguardo al ruolo, è stata l'intuizione del mio direttore a Sassuolo, che giocava attaccante e ha detto secondo me puoi fare il tersino e ho iniziato a fare il tersino agli a Sassuolo, mi sono trovato molto bene e sto continuando a fare il tersino. Sì, ciao Massimiliano Radicini, giornale di Sicilia e Italpress. Se puoi raccontarci un po' come è andata la trattativa, è stata una trattativa lampo, quella che ti ha portato al Palermo, il club ha investito tanto su di te facendoti un contratto fino al 2027, che tipo di tappa nel tuo percorso professionale può rappresentare il Palermo? Allora, il 30 pomeriggio il procuratore mi ha chiamato, mi ha detto che c'era l'interesse del Palermo, io ho subito detto di sì perché conosciamo tutti il Palermo, quindi ho dato la mia disponibilità per venire qui e ringrazio il Palermo e il City Group che mi ha accolto qua. Poi per quanto riguarda tutta la trattativa è stata una cosa tutta lampo e il 31 ho firmato qui a Palermo e sono contento. Qual era l'altra domanda? Palermo è veramente... Cioè sono... Spero che con il Palermo faccio grandi cose, sia a livello personale che a livello di squadra. Ciao, ben trovato a Palermo, Valerio Trippi, ho letto una tua intervista più o meno recente in cui dicevi che il tuo percorso sono stati importanti a De Zerbi, Iachini e che avevi fatto delle scelte in base alla possibilità di crescita della tua carriera. Ti chiedo quanto sono stati importanti queste due figure e a parte cosa rappresenta a livello di scelta della crescita della tua carriera a Palermo, se è una tappa intermedia oppure pensi che possa essere l'inizio di un grande percorso. Io penso che Palermo, come ho già detto al suo collega, è una tappa molto importante per me che spero di fare molto bene qui a Palermo. Come figure Iachini e De Zerbi sono state molto importanti perché mi hanno fatto crescere molto a livello calcistico e anche come uomo. Giusto per precisare, ti chiedevo tappa importante perché tu dicevi in questa intervista che la scelta del Sassuolo, piuttosto che altre squadre anche più blasonate che forse ti cercavano in quel momento, era proprio improntata sulla crescita. Cioè, se puoi spiegare questo concetto. Sì, penso che la scelta che ho fatto a 14 anni di andare a Sassuolo era più una scelta per me stesso per andare in una società che a quei tempi era piccola e crescere insieme a loro. Penso che oggi aver fatto quella scelta mi ha dato tanto perché mi ha portato qua. Ciao, c'è Tina Bellitteri, Azzurra News, intanto benvenuto. Ti volevo chiedere qual è stata la tua emozione nel vedere Barbera giocare contro la regina, vincere, l'impatto che hai avuto e quali sono i tuoi obiettivi se conti di essere subito impiegato da Corino o se ci sarà un percorso di crescita. Grazie. Grazie mille. Il Barbera pieno, sincero non ero mai venuto qui a Palermo. Quando sono entrato allo stadio ho visto tutta quella gente che tifava per noi e è stata un'emozione grandissima. Quei 25.000 che c'erano, veramente una cosa bella. Per quanto riguarda il mio contributo, io già dal primo giorno ho iniziato a dare il massimo in allenamento e quando il mister avrà bisogno potrà contare su di me. Ciao, sono qui. Giovanni Mazzola, Gianluca di Marzio.com Cerco di sintetizzare le domande. La prima, Pontedera, sei riduce dal miglior periodo della tua carriera, quattro gol, sette assist, cosa ti resta di questa esperienza? E se hai parlato con qualcuno di Palermo, visto che a Pontedera c'è Stancampiano, che è palermitano, se magari hai parlato con lui di Palermo, e poi sul reparto arrivi in un ruolo dove ci sono tre giocatori per un posto solo. Questa competizione interna è per te uno stimolo in più? Il pomeriggio del 30 avevo appena finito gli allenamenti, ne ho parlato subito con Peppe, il portiere Stancampiano, mi ha detto che è un'occasione unica, vai, quindi l'ho ascoltato e sono venuto qui. Per quanto riguarda il Pontedera mi sono trovato molto bene, la ringrazio per ciò che mi ha dato, e il fatto che ci sono tre terzini sinistri in squadra per me non è assolutamente un problema e mi stimola molto a fare bene allenamento dopo allenamento. Ciao, buongiorno, Marco Capone, Palermo Today. La mia è una curiosità, insomma volevo chiederti qual è il tuo idolo, qual è il giocatore al quale ti ispiri, se è sempre parametrato ormai a terzino sinistro oppure magari anche qualche giocatore che gioca più avanti, ecco. Allora, come giocatore a cui mi ispiro molto è Teo Hernandez, perché mi piace veramente tanto e anche, vabbè, uno dei terzini più forti che è Maldini, però per arrivare a quei livelli ce ne vuole tanta di strada. domande, metti, arriva. Ciao, Cristiano Simeti, era il Palermo Calcio. Ti chiedo se ti trovi meglio come esterno a 5 o come terzino basso, visto che comunque il Palermo ha adottato tutti e due i metodi, tutti e due i sistemi di gioco, quindi quale dei due ti trovi più a tuo agio e se puoi crescere anche dal punto di vista dei numeri, insomma, quest'anno sono già quattro gole, sette assist in C, qui il livello si alza, credi che i tuoi numeri possano alzarsi di conseguenza o ci vorrà del tempo? Grazie. Mi trovo meglio quinto di centrocampo, però il terzino l'ho fatto, quindi devo migliorare a fare il terzino, ma come devo migliorare a fare l'esterno di centrocampo? Per quanto riguarda i miei numeri, sono numeri che ho fatto in C, in B so certamente che il livello si alza, ma farò di tutto, allenamento dopo allenamento, per confermarli.